La piscina del Collana riapre ai cittadini. Per tutto il mese di luglio la piscina e il solarium saranno accessibili tutti i giorni dalle 8.30 alle 14.30. La pista di atletica del Collana sarà invece aperta dalle 16.30 alle 20.30. Paola Turci e Marina Rey si esibiranno sul lungomare Caracciolo in occasione del campionato di Beach Volley che si svolgerà nel weekend dal 6 all'8 luglio. Il concerto si terrà sabato 7 a partire dalle 21.30. Grande lirica all'Arena Flegrea. Il 6 e 7 luglio andrà in scena l'Aida di Giuseppe Verdi in un allestimento spettacolare con ornamenti e costumi di produzione egiziana. Per tutto il mese di luglio ogni giovedì alle 17 nella villa floridiana lezioni gratuite di yoga per apprendere tecniche di respirazione e di rilassamento. Fra la pedamentina e il centro storico si svolgerà dal 6 all'8 luglio Alto Fest, rassegna indipendente di teatro, musica, danza e artivisive. Il programma su www.altofest.net